Pallone per Tandara, posizione regolare, pallone per Capozzoli, va Capozzoli, cerca di entrare in area di rigore, converge sul sinistro, c'è il colpo di testa da parte di Natiello e il pallone è finito a fondo campo, però è la prima azione gol dell'Agropoli. Palla al limite, Dattilio, Tandara, Capozzoli, Capozzoli particolarmente ispirato, Capozzoli la palla che finisce fra le mani del portiere, ma c'è un'altra azione gol dell'Agropoli con Formisano chiamato a fare gli straordinari già in questo avvio di partita. Alfano, è involontario il fallo di mano del numero 10 a ragione l'arbitro di Ascione e allora la giocata di Masocco non si è chiusa bene, poi Dattilio la recupera, il pallone rimbalza molto male come vedete, Capozzoli, Capozzoli, è quasi gol dell'Agropoli, era stato servito benissimo Capozzoli che ha preferito la giocata personale invece del passaggio verso Tandara che probabilmente era solo in area di rigore. l'Agropoli tiene alti i giocatori del Sant'Agnello ma c'è il tiro che rimbalza anche in maniera molto molto particolare davanti a Capone, sicuro. Tandara, Tandara, l'appoggio su Dattilio poi ancora, Tandara la dà Capozzoli messo in ottima posizione, sbagliato il tiro di Capozzoli, poi ci va Graziani e la palla che finisce fra le mani del portiere, un colpo di tacco, prosegue l'azione, l'Agropoli è ancora vicinissima al vantaggio che non arriva. La palla in aria, è quasi gol, avrebbe detto un grandissimo del passato Nicolò Carosio, il colpo di destra di Dattilio al trentesimo minuto. Giocata di Carofra, il cross ottimo al centro, c'è Natiello il tiro, ribattuto, ancora Natiello, Natiello, non c'è rigore dice l'arbitro, non c'è rigore, non lo so. Pallone in aria, pallone in aria, tiro e la palla che finisce di pochissimo, alta sulla traversa c'è calcio d'angolo, il Sant'Agnello e questo è il paradosso del calcio, è vicino al vantaggio. Masocco ancora, prepara il sinistro, non è il suo piede, però la palla finisce fuori al quarantaduesimo minuto. Sbagliato l'appoggio di Capozzoli e poi un fallo, Natiello riesce a stare in piedi, serve Tandara, si può girare Tandara, Tandara, il tiro e la palla che si alza di pochissimo, l'Aropoli è vicino al vantaggio. Sull'arresto del grillino, Capozzoli, il tiro di Capozzoli, parata del portiere e poi Graziani o Natiello sbaglia il gol. Natiello e Capozzoli sulla palla. Ottimo, non ci arriva nessuno, l'Aropoli è vicinissima al gol. Ottima la giocata, possibilità di chiudere bene questa azione da parte della formazione ospite, al settimo minuto del secondo tempo il Santagnello poteva colpire. Cerca di convergere Capozzoli, tiro, parata del portiere, azione e gol di Capozzoli. Tandara, Capozzoli, gol, gol, ci va, ci è andata la palla questa volta. Buona, la palla a giro, palo dell'Aropoli. Natiello sul calcio d'angolo ha preso il palo. Natiello. Ottima la giocata di Dattilio, Dattilio, tiro, gol! E che gol Dattilio! Già all'andata! Aveva fatto un gol strepitoso, la chiude praticamente! Un gol fantastico Dattilio!